Ok adesso ti sento bene, quindi posso anche non guardare il labiale e cercare di capire i gesti, i gesti, micchia sabato Merda, merda E' bello che ti ho dato la linea, per farti parlare Riccardo mi ha detto, vai al luogo Giusto, giusto E non mi ricordavo Perfecto L'abbiamo scritto poche volte per il taxi Poi non c'è scritto da nessuna parte, figa, ho cercato in giro disperatamente Salto mortale mezzo rovesciato, B, 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 perché non ce l'ho la B? Ah si, la carpiatura B carpiato A teso E C raggruppato Che si mettevano la cima a carpiato Sballava tutto No ma aiutava Buongiorno dalla Perfecto Ball Pool di Fuga